Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con Punto Regione, la finestra che Punto TV dedica ogni settimana all'attività del Consiglio e della Giunta Regionale della Puglia. Apriamo con la legge regionale sul reddito di dignità varata dal Consiglio martedì scorso. Una legge quadro che avrà bisogno dei necessari regolamenti per essere attuata nella giusta direzione e rappresentare un efficace contrasto alla povertà. Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sul reddito di dignità con 30 voti favorevoli e 9 contrari. 5 milioni di euro stanziati dal bilancio autonomo della Regione che si aggiungeranno a quelli rinvenienti dai fondi europei e nazionali. Potranno accedere al reddito di dignità regionale tutte le persone e le famiglie residenti in Puglia da almeno 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza con ISEE familiare non superiore a 3.000 euro. Accedono inoltre i cittadini comunitari e i cittadini stranieri che possano dimostrare di avere la propria residenza in uno dei comuni pugliesi da almeno 12 mesi. L'ammontare mensile del reddito di dignità regionale non potrà superare l'importo di 600 euro erogabile per un nucleo familiare con 5 componenti. Non è stata una giornata semplice quella di ieri in Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle che ha anche abbandonato l'Aula seguendo i lavori dagli spalti dedicati al pubblico perché gran parte degli emendamenti presentati sono stati dichiarati inammissibili. E soprattutto è mancata l'unanimità su una legge fortemente voluta da Emiliano. Forza Italia, Conservatori e Riformisti hanno votato contro. A favore Partito Democratico, noi a sinistra, la Puglia con Emiliano, gli eletti della lista Emiliano Sindaco di Puglia e la minoranza di area popolare NCD. Molto diverse ovviamente le opinioni sul testo della legge tra maggioranza e opposizione e se il PD punta l'attenzione sulla grande occasione rappresentata da Redd, per l'opposizione malca del tutto un riferimento al reinserimento lavorativo dei soggetti interessati. È il primo provvedimento significativo dell'amministrazione Emiliano. Io ho sempre detto però che non bisogna troppo enfatizzare questo provvedimento. Questo è un provvedimento che naturalmente ha l'obiettivo, lo sappiamo tutti, di provare a contrastare la povertà con un sistema di welfare diverso, innovativo, ma è un provvedimento che potrà avere la sua efficacia se il regolamento farà in modo che venga attuato in modo corretto sui territori. Quindi attraverso una sinergia con i soggetti che poi saranno abilitati pubblici o privati a innanzitutto favorire l'incrocio fra le imprese e i beneficiari e poi a fare sì che questo incrocio avvenga e che la misura venga concretamente attuata. L'obiettivo della legge è il contrasto alla povertà, non è il reinserimento lavorativo. È chiaro che la dignità delle persone si riacquista quasi esclusivamente con la possibilità che le persone possano lavorare, possano trovare un posto di lavoro. Però questa legge non potrà ottenere appieno questo risultato. È un elemento come dire accidentale della legge. Se accadrà, beh è chiaro, tutti saremo felici. Però seppure riusciremo a garantire che l'1, il 2, il 3% dei beneficiari alla misura avranno avuto anche la possibilità di trovare un'occupazione, beh io credo dovremo essere contenti e non considerare come fallimentare il provvedimento normativo. Questo centro-sinistra che crea la povertà, la crea con la tassazione, la crea con i tempi di risposta ai procedimenti amministrativi, con delle leggi che sono sempre incomprensibili e con un'appartenenza a un partito che è nei poteri forti. Se noi pensiamo che Renzi con l'ultimo decreto legge non ha fatto altro che dare forza alle banche per espropriare i beni di chi ha contratto mutuo e non riesce a pagare sette rate arretrate. E quindi diciamo non sono titolati loro a parlare di povertà perché sono loro a crearla. Dall'altra parte siamo contro misure assistenziali perché noi vorremmo valorizzare il lavoro nel senso che valorizzando il lavoro si valorizza la dignità della persona umana e questa valorizzazione deve avvenire nel senso che se un soggetto assorbe dalla collettività un beneficio economico questo soggetto deve rendere a quella collettività un corrispondente di monte ore di lavoro da utilizzarsi da parte di comuni o altri enti pubblici in lavori di utilità collettiva. Il reddito durerà 12 mesi e poi al cittadino chi ci pensa? Pensando invece ad una politica con questi fondi che dava la possibilità ad un pugliese di poter veramente soffrire della dignità che è data soltanto dal lavoro dunque un investimento per 12 mesi però ecco un impegno che proseguiva perché soltanto il lavoro prosegue anche gli oltre 12 mesi. Quello che manca è proprio questo in questa proposta. Noi siamo a favore di un reddito di garanzia di far bisogno di dignità tante regioni l'hanno attivato ognuno ha dato un nome diverso ma tutte le regioni italiane a prescindere anche dall'appartenenza politica hanno sempre guardato alla questione lavoro perché dare la possibilità ad un cittadino di usufruire per 12 mesi di questo reddito ma poi per i restanti mesi per il restante periodo della propria vita di un lavoro è la cosa essenziale dopo 12 mesi non ci sarà più niente sarà ancora beggiore di prima perché forse abbiamo anche disincentivato la ricerca di un'occupazione utile. Una settimana intensa per l'attività della Giunta che lunedì ha varato anche il piano di riordino della sanità regionale 8 gli ospedali che saranno riconvertiti a strutture di assistenza territoriale e molti reparti chiusi tra cui 4 punti nascita a Corato Putignano, Galatina e Casarano e i territori cominciano a ribellarsi. Il piano di riordino ospedaliero tiene banco nelle conversazioni dei politici e nei corridoi degli ospedali. Se la Giunta lo ha varato lunedì difficilmente sarà digerito in pochi giorni dalla platea dei politici e delle classi mediche dai sindacati e dalle rappresentanze degli ordini. Il cittadino intanto aspetta parcheggiato in una sala fredda di pronto soccorso il benedetto triage procedura con la quale si assegna un codice di un colore che stabilisce priorità nelle cure. Priorità, chiave di lettura della prossima attuazione del piano. Priorità è la stabilità economica e sì perché i reparti per rimanere aperti dovranno rispettare alcuni parametri anche economici. E se Emiliano non sarà il diretto responsabile delle eventuali chiusure future il piano dovrà essere infatti realizzato in un biegno il peso della difficile scelta sarà in capo ai direttori generali delle ASDO. Il piano di riordino fa sapere il direttore del Dipartimento Salute della Regione Giovanni Gorgoni dovrà trovare la condivisione dei tavoli ministeriali e avere attuazione entro fine 2017. Ciò significa che il passaggio dal vecchio al nuovo assetto potrà avvenire gradualmente precisa Gorgoni anche con la collaborazione delle comunità locali e delle organizzazioni sindacali. Le polemiche intanto proseguono e per sabato è prevista una manifestazione di protesta a Trigiano contro la chiusura dell'ospedale. Raro come il 29 febbraio giornata internazionale dedicata alle malattie poco diffuse ma non per questo anzi, meno gravi. La Regione Puglia è in prima fila per la ricerca così come ha detto anche il direttore regionale della Sanità Gorgoni nel corso di un convegno a Bari nell'Aula del Consiglio regionale. Leopoldo Zelante diceva i giovani restituiscono sempre. Un appuntamento speciale talmente particolare che ricorre ogni quattro anni. Il 29 febbraio è la giornata internazionale delle malattie rare dedicata a chi soffre spesso nel silenzio generale. In Puglia sono 10.779 i soggetti interessati secondo i dati del coordinamento regionale delle malattie rare comunicati nel corso di un convegno in Consiglio regionale a Bari dove è stato firmato il piano operativo del patto d'intesa a favore della ricerca per la quale la Regione Puglia è in prima fila. La Puglia è molto interessata alle ricerche in tema di malattie rare. Oggi ci sono cinque giovani ricercatori premiati in nome della ricerca e la premiazione è dedicata a Leopoldo Zelante che faceva parte del nostro coordinamento malattie rare che è scomparso prima di Natale. Un uomo che ha fatto moltissima ricerca ma non si è mai dimenticato del malato. Un impegno assunto anche dal direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute Giovanni Gorgoni. Capito ogni quattro anni non dobbiamo aspettare che trascorra il quadriennio per ricordarci di queste 6.000 oltre 6.000 patologie al mondo censite come malattie rare per quel che riguarda la Puglia 11.000 quasi assistiti. La Puglia ha fatto un buon percorso negli ultimi anni tra l'altro anche apprezzato a livello nazionale in tema di tracciatura del disagio da parte dei pazienti e soprattutto quello che facciamo oggi anche progettazione di modelli organizzativi che siano adeguati al disagio di salute ma anche di vita e di orientamento che poi è il principale disagio che vivono questa tipologia di malati all'interno della regione. E questa era l'ultima notizia per oggi vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Punto Regione Buonasera e arrivederci. Buonasera